ferma lì la venta che era quest'ora dice il primo dì dì che lo che ce la fa il support 4000 può andare piccolo e cattivo a 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 usa tutto mani piedi fa tutto il possibile